In questa stanza riceviamo le telefonate di qualsiasi natura. Una volta capito di che cosa si tratta, inseriamo nel computer, nel nostro database, la richiesta di soccorso. In automatico vediamo la squadra più vicina che può intervenire. Una volta che ho registrato la richiesta di soccorso, questa è visibile da qualsiasi computer di questa sala, per cui il mio collega può già inviare la richiesta di soccorso alla squadra più vicina. Questo mi consente di rimanere al telefono con il richiedente anche fino all'arrivo della partenza sul posto. Anche se alle volte, quando c'è un intervento come un incendio molto grosso, le chiamate di soccorso per lo stesso evento sono molte e quindi bisogna anche rispondere a tutte le chiamate per verificare che siano dello stesso evento e non di un altro. Con questa console posso attivare l'interfono in ogni stanza della caserma per chiamare le partenze, quindi qualsiasi cosa stiano facendo i miei colleghi possono in un poco tempo essere al camion e partire. Riesco anche a gestire la radio per comunicare con le partenze ovunque si trovino nel territorio della provincia.